Sky Art HD, 120 e 400 di Sky, presenta Ornella Vanoni, sono nata qui, l'esclusivo concerto di una cantante straordinaria, in prima visione sabato 30 dicembre alle 21.15 Ornella Vanoni torna sul palcoscenico del piccolo teatro Streller, proprio in occasione dell'apertura della nuova stagione teatrale, per ripercorrere i più grandi successi della propria carriera, come senza fine, l'appuntamento, c'è una ragione di più, domani è un altro giorno accanto a grandi classici della canzone italiana, ma soprattutto per tornare a cantare le canzoni della mala, un genere nato negli anni 50 dalla felice collaborazione di Streller con Dario Fo, Gino Negri, Fausto Amodei e Fiorenzo Carpiche, ispirandosi a vecchie ballate dialettali miseri in musica storie milanesi di furfanti, spari, poliziotti, malfattori, carcerati, balordi e minatori. Mammi, hanno ammazzato il Mario, le mantellate e molte altre costituiscono un repertorio amato dal grande Giorgio Streller e di cui la Vanoni è stata l'interprete eccezionale che, proprio nell'anno del settantesimo anniversario dalla fondazione del piccolo teatro Streller, vive con trepidazione questo ritorno. In questo concerto, spiega la Vanoni, percorrerò la mia carriera iniziata al piccolo, con la gioia e l'emozione di un bel regalo. Ad arricchire il concerto anche un'intervista intima in cui Ornella Vanoni racconta il suo esordio e il sodalizio artistico e amoroso con Streller, l'incontro con Gino Paoli e altri grandi cantautori, senza omettere i momenti difficili e i fragili equilibri che hanno contraddistinto un momento irripetibile della storia della canzone italiana.